La Pomi Casal Maggiore conquista il primo successo casalingo stagionale. La Lardini Filotrano non riesce ad evitare il sesto K.O. consecutivo. La settima giornata della Samsung Galaxy Volley Cup riconsegna al campionato una big rimasta insabbiata nei bassi fondi della classifica. Dopo il cambio di guida tecnica, dopo il ribaltone subito a Firenze, Casal Maggiore si scuote con una prova autoritaria, interrompe l'emorragia di sconfitte interne e nonostante l'assenza di Anastasia Guerra passa il secondo esame marchigiano dopo aver steccato il primo con Pesaro. Tra le fila della Lardini Filotrano coach Alessandro Beltrami prova a cambiare l'assetto in avvio inserendo Chiara Negrini e tenendo in panchina Anni Michem. Da par sua Cristiano Lucchi getta nella mischia Anastarcevic. Il primo set si decide presto con le Rosa che prendono il largo in fretta e chiudono 25-14 trascinate da Braial e Martinez e Sara Pavan sugli scudi. Anche nel secondo parziale vinto 25-15 dalla Pomì. Più combattiva nel terzo set, Filotrano prova a riaprire il match. Il 43% in attacco di Sara Utinski e il 31% di Lana Sciuca non bastano alla Lardini per arginare Casal Maggiore che blinda e brinda. Dal 20 aprile scorso le Rosa non vincevano al Pallaradi. Sì, dipendente chi c'era dall'altra parte. È molto importante stato il nostro atteggiamento e il nostro impegno in campo che mancava ultimamente. Allora sono fiera della mia squadra perché siamo stati in un momento di buio. e allora adesso si vede che ci siamo, che abbiamo fatto bene davvero. In campo si sentiva anche che va meglio.